oggi cucina francesco si a casa sua non ha acceso la brace ma farà tutto in forno sarà bravo allora ci siete a pranzo devo fare della carne fatte delle alette di pollo costine questa qui pancetta l'ho già preparata e l'ho messa con tutto ho tagliato salvia rosmarino timo e le ho messe con un po d'olio pepe salsicce patate fatte sbollentare 10 minuti adesso sono in osmosi con rosmarino aglio e timo e poi le cuoce in padella perché il forno è occupato perché c'è una fiorentina che dentro da un'ora e 39 deve stare con 20 minuti a 52 gradi e dopo lo faccio anche questa in padella perché oggi pensavo piovesse quindi non ho acceso la carbonella tutto nel forno ciao è un 25 aprile questo di ieri l'ho fatto io francesco cucina salsicce alette di pollo e tanto altro buon divertimento e buon 25 aprile